Ciao appassionati del Milan! Siamo di nuovo con le ultime notizie sul mercato delle trasferimenti del nostro amato club. Prima di iniziare, se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti nulla. Oggi portiamo notizie entusiasmanti su un giovane talento della La Liga che sta attirando l'attenzione del Milan. Andiamo! Il Milan sta guardando al futuro e resta vigile sul mercato in cerca di giovani promesse. Questa volta, gli occhi si sono rivolti alla La Liga, con il nome di Juan Sunset che sta emergendo. Secondo Vokficaies.com, Sunset ha già suscitato l'interesse di diversi club importanti, con Milan e Arsenal che hanno ricevuto le informazioni in modo più convincente. Sembra che il giovane centrocampista sia nel mirino di questi giganti europei. Juan Sunset è conosciuto per le sue abilità a centrocampo, dimostrando qualità tecnica e visione di gioco. La sua scesa nella La Liga non è passata inosservata, e ora il Milan vede in lui il potenziale per rafforzare la rosa. L'acquisto di giovani talenti porta sempre l'aspettativa di sviluppo e contributo alla squadra. Sunset, se arriverà a Milan, potrebbe aggiungere una nuova dimensione al centrocampo rosso-nero. Rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni su questo possibile trasferimento. Il mercato delle trasferimenti promette sorprese, e saremo qui per tenervi aggiornati. Cosa pensate dell'eventuale arrivo di Juan Sunset a Milan? Lasciate le vostre opinioni nei commenti. Grazie per aver guardato e alla prossima aggiornamento. Forza Milan!